Beata, prima. Devo fare profili? Sì. Destro, sinistro, centro. Beata, ma com'è che c'è questo nome così religioso? Ma mamma e papà, non c'era un altro. Io sono figlia della Madonna. Sono nata dalle monache. Abbiamo capito. Quanti anni c'hai? Non lo saccio. Oppure 15, oppure 18. La mia età non me la ricordo. Faccio contare solo fino a 10. Fidanzato, marito, parenti? Non ho nessuno. Dormo al convento. E com'hai trovato i soldi? Da Don Gino, l'esattore. Mi tagliò nuda e mi ha pagato. Mi tagliò? Che vuol dire tagliò? Mi guardò, mi ha guardato. T'ha guardato nuda? T'ha costretta. No, io lavo per terra, nelle case, nelle botteghe. Lavo pure i malati. E sempre quando mi pagano, mi domandano di tagliare. O le gambe, o il petto. Tutta. Ma non li faccio toccare mai. E allora perché stamattina la mente si è fatta guardare? Non ci ha riso. Vostia non me l'ha domandato. Fammi la faccia quando c'è paura, va? Paura? Sì. E tu vorresti diventare attrice, no? Se fossimo aiuta, sì. Dopotutto domani è un altro giorno. E al cinema che pellicole ti piace? A me mi piacciono le pellicole dell'amore. Dove tutti si baciano e alla fine sono felici e contenti. Tu la sapresti fare una bella scena dell'amore? Stop. A così finì io? A così finì io. E che volevi fare la carica dei 600 a prima botta? Eh? Comunque tu sei fotogenica. E che vieni a dire? E vengo a dire che sei bella. Puoi essere bella. Ammazza che c'hai una cesta dei capelli, eh? Te, sulla pellicola, puoi venire bellissima. Te lo dico io. Te lo dico io che c'hai. Ferma. Che fai? Non ti preoccupare. Hai. Buona. Hai. Bene, andate, faccio un altro pezzettino. Agostov. Vattene, ma non c'hai bisogno. Allora non ero brava. Bravissima. Ma però vattene, va. E soldi non ne vuole? Vattene. Fra un mese ti arriva una risposta da Roma. Vattene. Grazie assai. Grazie assai. Grazie assai. Grazie a tutti.